Buongiorno e benvenuti su meteogiuliaci.it. Da questa sera inizia per l'Italia un periodo piovoso che durerà almeno 6-7 giorni per il passaggio in successione di tre perturbazioni atlantiche. La numero 3 di questo mese già da questa sera inizierà ad avvicinarsi alle regioni del centro-nordo e in particolare le interesserà nella giornata di domani estendendo anche la propria influenza alle regioni meridionali. Andiamo a vedere le immagini del satellite in tempo reale. Vedete questa nuvolosità che risale dal Mediterraneo occidentale e la parte più avanzata della perturbazione numero 3 che invece possiamo scorgere ad ovest dell'Italia. Per quanto riguarda il tempo per la giornata odierna, al mattino molte nuvole sulle regioni centro-sottentrionali, nubi che andranno aumentando nel corso della giornata, ancora bel tempo sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori. Nel pomeriggio le prime piogge sulla Liguria e sulla costa della Toscana, la mappa invece che vedete è riferita alla previsione per la sera quando le piogge interesseranno in parte le regioni di nord-ovest ma saranno piogge di debole intensità, piogge più consistenti sulla Sardegna e sulle regioni centrali e in particolare sulla Sardegna e lungo le regioni del medio ed alto terreno arriveranno anche temporali di forte intensità. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in calo sulle regioni settentrionali, qui comprese in genere tra 17 e 21 gradi, tra 21 e 23 gradi al centro con qualche punta di 25 gradi ancora sul Lazio, tra 23 e 26 gradi sulle regioni meridionali con qualche punta di 28 gradi sulla provincia di Cagliari e sul Siracusano. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto e ancora una buona giornata.